ciao a tutti oggi andremo a vedere come si possono cucire i bottoni in modo diverso iniziamo a infilare l'ago col filo doppio e lo portiamo alla stessa altezza ecco qua sono quattro fili praticamente non è non sono due fili sono quattro e iniziamo a cucire il primo bottone diamo un punto questo modo e poi un altro vicino in modo da rifermare perché così non scappa tagliamo il filo in eccesso e iniziamo a cucire il primo bottone facciamo un punto 1 2 e basta passare due volte siamo siamo a posto perché sono quattro fili quindi sono abbastanza forti come riferiamo sotto e poi andiamo a fare il secondo sempre con lo stesso sistema un filo le corticine e questo lo facciamo in modo incrociato questi sono i sisti due le tipologie di bottoni che vediamo più spesso nella confezione ecco ci fermiamo non so se riuscite a vedere ecco qua questo normale e questo incrociato ora andremo a fare un'altra tipologia diciamo che a fantasia non c'è quindi andiamo a fermare anche qui abbiamo questo ecco qua vedete si vede bene ok facciamo l'ultimo l'ultimo cambierà questo è finito così un po' 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 un po'